Makarov ha seguito la figlia di Vorschewski fino a Berlino. Se riesce a trovarla, il padre gli consegnerà i codici per la bomba. Sappiamo la posizione? Stiamo triangolando. L'ISA ha appena intercettato una sua chiamata al cellulare. Potete parlare fra tre, due, uno. Alena Vorschewski? Chi parla? Forze speciali americane. Ok ragazzi, bentornati sul canale Gaming Now. Continuiamo con Call of Duty Modern Warfare 3. Ci troviamo adesso a Berlino in Germania. E recuperare la figlia del Presidente Russo prima del rivoluzionismo. Metal 1 è atterrato. Viper 5 entra in circuito d'attesa. Conto al secondo piano. Attenti! Medico. Grazie. Muoversi! Andiamo, muoversi! Muoversi sinistro! Scutti i pe götti! Maldita! Chiudecco! Machina barnata! Cosa operazione! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui Metal-01, il tetto è libero. Luce verde per granite. Granite-01, siamo in posizione. Ricevuto, 01, riferiremo. Passo al fucile di precisione. Nemici sul tetto! Anche Berlino è proprio distrutta da Sassuolo. Ricevuto, siamo dentro. Bersagli nella ZA, fissi rilusciati. La squadra granite è atterrata. Siamo sotto attacco. Granite a compagnia, ingresso a sinistra. Altri quattro. Copriteli. E' ancora gente sul tetto del palazzo di fronte. Libero granite, muovetevi. D-90 in arrivo. Overlord, carri russi sparano sulla posizione di granite. Richiediamo supporto. Copriteli. Copriteli è molto giocato. Noi, il corretto è aereo è sgomento. Gli oltre agenzie possono iniziare a mitraviare. Mesa-01, B-Valkyrie 2-6. Siamo nello spazio aereo e pronti all'azione. Attendiamo che ci signaliate il suo bersaglio. Bersaglio accacciato. Colpisci il carro in strada! Resistenti, siamo tornando! Attendete, torniamo indietro. Metal-01, sono in attesa. Pronto, segnali bersagli per la 10. Bersaglio accacciato. Centro. Arrivano altri due carri, distruggili! Metal-01, sono in posizione. Andiamo se riusciamo a distruggere lì. Pronto, segnali due. Grazie per le armi. Da qui ce ne occupiamo. Corazzati distrutti, granite, andate! Ricevuto! Grazie per l'aiuto, vi dobbiamo un favore. Tenete d'occhio l'edificio. Irrompiamo. Granite, riuscite a vedere Athena? Affermativo! Merda, a sinistra! Altre due, via da... Granite, granite! Sono andati. Ma che cazzo... Overlord, la squadra granite è andata. Ripeto, api la battuta, inseguiamo Athena. Affermativo, Sandman. Mettetevi in contatto con la colonna di carre tedesca a sud e procedete verso l'edificio. Passo. Ricevuto, Sandman, chiudo. Forza, dobbiamo scendere in strada. Presto! Presto! ci sono dei feriti è la squadra onyx qui metal 02 devo evacuare tre feriti le coordinate sono 7 romeo 8 5 1 ricevuto a 02 mandiamo un aereo SAR per l'evacuazione squadra americana un correffato russo spara dal ponte distruggete quel carro ci stanno massacrando non esisteremo a lungo ricevuto a 02 mandiamo un aereo SAR per l'evacuazione squadra americana un correffato russo spara dal ponte distruggete quel carro si stanno massacrando non esisteremo a lungo non esisteremo a lungo ma i cuori quel carro con un RPC distruggi il carro dobbiamo raggiungere la ragazza ottimo andiamo muoversi no no non è la mia arma non è la mia arma non è la mia arma la strada è libera muoviamoci insieme i carri usiamoli come riparo la strada è libera 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 la strada è libera